È stata una parata distinto per quanto mi riguarda, perché c'è stato l'attaccante loro, Diou, che ha tagliato sul primo palo, mi sembra, davanti a Tuya. L'ha impattata, secondo me, molto bene, schiacciando la terra sul secondo palo. Io ho avuto l'istinto, la prontezza di vedere per fortuna partire la palla e di aver l'istinto e l'esplosività, secondo me, di partire e di arrivarci a mano aperta con la mia mano sinistra. Poi sulla respinta mi sembra ci fossero i bandineri che poi ha calciato, ha provato la scivolata ai loro difensori, la palla è uscita. È stata una sorta di emozioni molto forti nell'arco di poco tempo. Sì, diciamo che l'assetto difensivo, non so come dire, forse ci siamo, cioè siamo diventati anche noi più umili. Sappiamo che in Serie B purtroppo bisogna soffrire, perché non ci sono squadre che stravincono tutte le partite 5-6-0. Quindi abbiamo detto ci mettiamo lì, ci difendiamo, appena si può si riparte, si attacca. È da molte partite che abbiamo trovato ormai la quadra difensiva e questo è merito sì del mister, ma è merito di tutta la squadra, perché quando si difende nella nostra metà campo i primi a difendere sono appunto gli attaccanti. E questo ci sta dando una grande mano e appunto nelle ultime partite si sta vedendo questa differenza che c'era nelle partite precedenti. Sì, assolutamente, c'è intesa tra i due, si vedeva già appena arrivato e sono contento che abbia potuto trovare spazio subito. Mi dispiace ovviamente abbia potuto trovarlo per l'infortunio di Chiara, però si è fatto trovare pronto per fortuna e sta rispondendo sul campo al mister che gli ha dato subito fiducia. Il paragone mi fa un sacco piacere perché il ragno è un titolare inamovibile in Serie A ormai da un anno, un anno e mezzo e è stato convocato anche con la nazionale maggiore, quindi anche solo il fatto che mi paragoniata lui per me è un grandissimo onore. Speriamo di seguire le sue orme, però questo si vedrà solamente con gli anni e quest'annata potrebbe essere determinata appunto per il futuro. Ho una dedica, la dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza che sta facendo lo sforzo di continuare a studiare a Novara nella nostra città e quando può viene a trovarmi. Poi tra quattro giorni è il mio compleanno, quindi abbiamo la fortuna di passare insieme e a distanza lo dedico a tutta la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto anche dalla distanza. Sinceramente in spogliatoio non parliamo affatto della classifica e per quello che ti posso dire neanche delle partite che ci saranno, ogni tanto magari qualche battutina, qualche cosa in allenamento però. In spogliatoio pensiamo solamente a mettere la musica e a mantenere la serenità che ci sta accompagnando in queste settimane. Poi quando ci sarà il momento di parlare di quei posti là in alto ne parleremo, ora non ne stiamo ancora parlando. L'ho anche notato e assaporato nella gara di andata che ho vissuto dalla panchina e ho notato l'affiatamento di tutti i tifosi sia nostri che avversari. Mi hanno raccontato che c'è molto astio e se è come un derby vedremo come andrà a finire, sperando di regalare una gioia ai tifosi.